Avevamo un tema molto strano. Avevamo un foglio bianco e dovevamo spiegare il motivo per cui il foglio bianco non rappresenta il vuoto. Questi sono i temi del signore Poma. Tu mi mandano in palla. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Qualcosa del genere. No, sono sicura che avrei chiesto all'insegnante di darmi un'altra traccia. Ragazzi, ragazzi, scusate due minuti, devo dirvi una cosa. Sei malata? No, 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 sto bene. No, mi sono iscritta all'università. Davvero? Sì, davvero. E l'hai già fatto? Sì, ho completato l'iscrizione. E perché ce l'hai detto solo adesso? Perché non mi ero ancora iscritta. Stavo preparando la mia domanda e avevo qualche dubbio. Dovevo ancora chiarire delle cose con me stessa. Ma è una decisione che riguarda tutti? Beh, tu te ne andrai per studiare, quindi non ti riguarda. Forse anche Matilde se ne andrà. Intendevo tutti noi. Per voi non cambierà niente. È come se andassi a lavorare. Ma tu non lavori? Sì. Lavoro, invece. E sento il bisogno di cambiare. E cosa farai? Studierò.